L'Occantena Roll presenta Babymetal con i tuoi miei L'Occantena Roll presenta Babymetal con i tuoi miei L'Occantena Roll presenta Babymetal con i tuoi miei D'al CALLO L'Occantena Roll presenta Babymetal con i tuoi miei L'Occantena Roll presenta Babymetal con i tuoi miei Il guitarrista non ha mai mai e meno che il marcello di E.U.E. E il cantante è Tommy Hart di Faye Warner. Se hanno unito a Alessandro Dilbecho per fare il miglior disco di A.O.R. del anno passato. È una meraviglia di lo migliorcito che abbiamo ascoltato l'ultimamente. Il sello Frontis, l'ogicamente. Per il anno è stato abbastanza bene. E poi volveremo con più caña ancora. E lo deixo per che lo disfrutate e ci vediamo la prossima settimana. In Babymetal In Rocantena Roll In Rocantena Roll Left here with the deepest scars Torn apart Grazie per la visione 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 Grazie per la visione